Sono qui per dare il giusto contributo nella giusta misura come anche il sindaco mi ha chiesto. Alla lista Teodoro toccava un assessore per quello che la lista Teodoro aveva fatto in termini di numeri nell'elezione del sindaco Lissandrini, però ci sono state tante polemiche non per il suo ingresso ma per l'uscita di alcuni assessori. Lei dall'esterno che idea si è fatto? Guardi, innanzitutto voglio salutare l'amico Giuliano Diodati e ringraziarlo per il buon lavoro che ha saputo portare in avanti in questi anni al Comune di Pescara. Noi non abbiamo chiesto nulla ma la politica e quindi il sindaco ed il partito, di cui il sindaco fa parte, il Partito Democratico, ci hanno chiesto una collaborazione. Ecco, nel chiedere questa collaborazione al gruppo consigliare, intavolando un ragionamento molto serio, sono arrivati ad una conclusione definitiva che la lista Teodoro doveva essere rappresentata in quanto noi abbiamo sottoscritto il patto di coalizione che ha portato Lissandrini a Palazzo di Città. Quindi questo patto di coalizione non fu interrotto per causa nostra, quindi per causa della lista Teodoro, ma per una scelta che la politica in quel momento, la coalizione, prese. Si sono accorti dell'errore e hanno voluto giustamente recuperare. Lei parlava di deleghe Teodoro e tra queste deleghe c'è anche quella della politica della casa. Una delega pesante, una patata bollente alla luce di quello che è successo qualche settimana fa, per esempio in Via Lago di Borgiano. Eh sì, dicevo appunto poc'anzi, proprio mi hanno chiesto di dare la massima collaborazione e di accettare, proprio perché ci sono situazioni difficili da affrontare e come lei ben sa non è soltanto la politica della casa, ma anche altre deleghe come la protezione civile, come il contenzioso, che le ho anch'io. E sono deleghe comunque difficili, complesse. Bene, io non mi tiro indietro. Sto lavorando e stiamo già lavorando insieme alla struttura per arrivare ad una soluzione definitiva, chiaramente seguendo già questo lavoro avviato, quest'ottimo lavoro avviato, per cui cercherò di portarlo a termine nel più breve tempo possibile affinché gli sfollati possano riavere giustamente il loro diritto, quello di una casa.